Abbiamo radici lontane, nei mestieri e corporazioni medievali. Entriamo in azione in Francia e Piemonte, in un'epoca di re e di rivoluzioni. E da allora siamo a disposizione delle imprese torinesi per costruire il futuro insieme. A Torino oggi realizziamo servizi per oltre 200.000 imprese locali, di tutti i settori e di tutte le dimensioni. Il 90% delle nostre aziende ha meno di 10 addetti. Con i nostri servizi offriamo a queste imprese opportunità che da sole non potrebbero raggiungere. Ad esempio scambi internazionali di tecnologie, investimenti sulla trasformazione digitale, consulenza sulla tutela di idee, marchi e brevetti. Nella nostra anagrafe, il registro imprese, raccogliamo i dati delle aziende, aperture, chiusure, bilanci, elenchi soci. Un database che si può consultare anche online per un'economia trasparente a portata di cittadino. Aiutiamo le imprese negli addempimenti di legge, ad esempio per il rispetto delle norme che tutelano l'ambiente e per vendere il Made in Italy all'estero. Sviluppiamo progetti su misura per le attività che nascono e hanno bisogno di orientarsi e chiarire la propria idea imprenditoriale e per quelle che hanno bisogno di crescere con formazione, finanziamenti, ricerca partner. Ci siamo anche nei momenti di difficoltà. E le sfide aumentano ogni giorno. Una trasformazione digitale che arrivi a tutte le imprese. Una crescita sostenibile e di impatto sociale. La formazione dei giovani e il loro orientamento al lavoro. Lo sviluppo di un turismo fatto di esperienze, legate ai prodotti del territorio. L'accompagnamento delle imprese verso nuovi mercati. Sono oggi elementi più che mai necessari per la ripresa economica. Anche la manifattura, che ha sempre caratterizzato il nostro territorio, sta rapidamente evolvendo grazie alle opportunità dell'industria 4.0. E noi cerchiamo di diffondere queste opportunità tra le imprese, con finanziamenti e servizi dedicati. Lavoriamo anche per un miglior rapporto tra cittadini e imprese, attraverso consulenze online su sicurezza alimentare ed etichettatura e con le nostre guide sui diritti dei consumatori. Puoi trovare facilmente la Camera di Commercio di Torino sul web, non solo per informazioni e pratiche, ma anche per consulenze su misura, con un sito sempre aggiornato e tanti canali social. Troverai la Camera di Commercio anche in molti progetti ed eventi, in città e fuori. Perché siamo convinti che per lo sviluppo del territorio sia importante fare rete e sostenere partner e progetti locali. Ma solleviamo lo sguardo anche all'Italia, all'Europa e oltre. Per portare le opportunità del mondo alle nostre imprese e le nostre imprese nel mondo. Per portare le opportunità del mondo. Grazie a tutti